Incidente nella serata di venerdì 30 Il 30 marzo, poco prima delle 23, in Viale 25 Luglio, provinciale che da San Giorgio Canavese conduce a San Giusto Canavese. Una Daiatsu Cuore, condotta da una ragazza di 25 anni, residente a Chieri, è uscita di strada subito dopo la curva, ribaltandosi nel fosso che costeggia la carreggiata. Fortunatamente la giovane è rimasta illesa. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della radiomobile di Ivrea e i vigili del fuoco di Rivarola Canavese che hanno messo in sicurezza la vettura alimentata a GPL. La dinamica dell'incidente è al vaglio dei carabinieri. Allora, provate a guardare... No, chissà di... Allora, provate a guardare... Allora, la sinistra... Allora, provate a guardare... Allora... Allora... Grazie a tutti.